Ciao a tutti ragazzi io sono Akel e oggi siamo in un nuovo video di una nuova survival, ovvero la PlayStoryCraft Questo è un bel inizio, un inizio nuovo di una nuova serie Perché survival croft si è bello ma dopo un po' è indondante perché è difficile andare avanti Diventa stra difficile, invece qua è un po' più facile Vedrete delle serie in coop su minecraft perché è più facile da registrare ed è più facile da giocare insieme Sia a Seik che a Saia Comunque non sono nella versione più recenti di minecraft, vorrei specificare Ma sono una versione un po' vecchiotta, non troppo ma abbastanza Qua nel frattempo vediamo che vi racconto La mappa server perché mi perdo troppo E non ci sono neanche le coordinate, quindi sarà una bella botta andare avanti Sicuramente bisogna non correre Veloce Volevo cercare un posto dove potermi stabilire Nel frattempo anche il server standard avanti Molto avanti Per ora ho deciso di non registrare un video sul server perché non è molto bello Per ora Nel frattempo Ho aggiunto una carta Sì c'ho una carta in tempo Ho aggiunto una texture pack sul gioco perché non volevo che il gameplay diventasse simile a tutti quanti gli altri che lo facevano Quindi qua avremmo anche una texture pack Volevo aggiungere anche una morte Il problema è che la morte in questa non era ben messa E quindi era un po' difficile da mettere E quindi era un po' difficile da mettere Un po' difficile 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 Olè, un bel po' di tempo e ho fatto anche questa, adesso dovremmo andare subito a caccia per mancare qui notte altrimenti qua siamo morti, non possiamo neanche allontanarci troppo da casa perché altrimenti avremo un problema di tornare, qua c'abbiamo un laghetto vicino, essenzialmente io questa clay me la prendo, clay ottimo direi a mamma mia, c'è già notte? Fornaccia accesa Non è una texture pack Meravigliosa ma va bene Per me è abbastanza Spero che non arrivi nessun clip Spero vivamente Che non arrivi nessun Quindi io Per non saperne leggere Metto queste come barricate Faccio anche un empty map Olè Dicevo che per l'ora Ce la teniamo nella mano secondaria In caso dovessimo andare da qualche parte Saperemo dove siamo Dai un frasetto Che così almeno possiamo Non sentirci soli No Ho provato a fare una cosa però non è venuto troppo bene quindi preferisco fare così. Spostare le cose che ho in chest, la chest la sposto là, la chest e sposto un po' le cose che ci sono là, in questo momento non avrò problemi, è gigantesca con tutte le cose, ecco qua, da qualsiasi e non avrò scappare. Ok da qui potremmo fare cose, e io sinceramente andrò in miniera perché ci serve una materia, intanto il ritoccio ce l'abbiamo. Ok da qui potremmo fare un po' le cose che ci sono, ecco qua. Ok da qui potremmo fare un po' le cose che ci sono, ecco qua. Ok da qui potremmo fare un po' le cose che ci sono, ecco qua, ecco qua. Eh, buh? Cos'è questo? Slap? No, non penso. Allora ho giocato, ok. Eh, mettiamo un po' di questo qua. Così, vedo un po' tutto e c'ho il cibo, ok, mi va bene. Allora ho il cibo, posso spravvivere, forse. Io sinceramente questo cibo, me lo terrè, e mi piace come siamo andati avanti già nella prima puntata da avere una casa. Questo è tutto, e noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao! Ciao!